La festa della Lega di Pinzolo, che tradizionalmente costituisce l'evento clou dell'estate politica della Lega, è stata un mezzo flop, con poca partecipazione, ma soprattutto con un Salvini decisamente sotto le aspettative, molto rimissivo, che non sa probabilmente nemmeno i temi di cui viene chiamato a trattare durante l'intervista. In particolare di grandi carnivori, orsi e lupi, ma anche di pensioni, ha dimostrato tutti i limiti di amministratore pubblico. Ne parliamo in questa puntata di Focus Trentino, ma prima di vedere i contenuti vi ricordo di mettere il mi piace e di condividerlo con i vostri amici. A tra poco dopo la sigla. Cari amici vicini e lontani, bentornati nella nuova puntata di Focus Trentino da parte di Stefano Vedela. La festa della Lega di Pinzolo tradizionalmente costituisce l'evento clou della politica nazionale della Lega, con Matteo Salvini che sale in montagna nel suo buon ritiro delle Dolomiti per fare un po' il punto della situazione, per vedere cosa ci aspetta la ripresa della politica che è proprio iniziata in questi giorni. Però Salvini ha deluso grandemente sia il pubblico, che era intervenuto poco in verità, ma soprattutto anche i temi trattati, dove nonostante che il Trentino vada ad elezioni. Ha praticamente sottovalutato l'appuntamento, evitando anche sul palco il contatto diretto con il presidente candidato della Lega, tale Maurizio Fugatti, evidentemente presigendo che questo candidato non sia proprio il massimo che la Lega possa mettere in campo, nonostante che lui stesso abbia detto che squadra che vince non si cambia. Peccato solo che questa ipotesi di vincita durante i cinque anni che ha caratterizzato la gestione della Lega in Trentino ci siano state ben poche vittorie, ma invece tantissime sconfitte, sia dal punto di vista amministrativo, giudiziario, ma soprattutto politico, con tanti problemi che si sono andati ad accumularsi invece che risolversi, come erano le promesse del programma 2018 della Lega. Però Salvini ha stupito anche per alcuni temi trattati, in particolare quella della gestione dei lupi e degli orsi, che in Trentino è particolarmente sensibile dopo gli eventi che hanno visto un orso aggredire una persona, uccidendola, ma soprattutto per le numerose predazioni da parte dei lupi ai danni dei greggi. Ebbene, Salvini ha detto che ce ne dovrà occupare il Consiglio dei Ministri di oggi, che si svolgerà in pomeriggio, facendo finta di non sapere che il Consiglio dei Ministri guidato da Giorgia Meloni ha questioni ben più cogenti e urgenti che non occuparsi di una gestione dei lupi e degli orsi dove il suo sodale di partito, Fugatti, in questi cinque anni ha fatto poco o nulla per gestirla correttamente. Tant'è vero che la situazione, a furia di essere completamente sottovalutata e non gestita, gli è sfuggita di mano. Ebbene, nonostante tutte le sollecitazioni da parte degli tecnici del settore, zoologhi, esperti neutralisti e quant'altro, e soprattutto vedendo anche quello che sta accadendo nell'Abruzzo, dove l'orso è un ulteriore simbolo, così come nel Trentino delle Dolomiti, di quel parco da lamello Brenta, che aveva fatto il progetto Life Ursus, lanciato una decina di anni fa, proprio per reintrodurre il plantigradi in un ambiente naturale che li aveva visti progressivamente scomparire. Ebbene, mentre in Abruzzo la gente si ferma rispettando gli orsi, anzi aiutandoli ad attraversare la strada, bloccando il traffico, aspettando che mamma orsa veda che il suo territorio è sicuro, che vada a recuperare i cuccioli e compagni a attraversare la strada, quella gente che la fotografa, che gli applaude, che gli dà sostegno, in Trentino, viceversa, la politica della Lega punta semplicemente a utilizzare doppiette e a soppressione. Quando bene o male il programma iniziale doveva prevedere anche la possibilità di espansione della popolazione ursina dall'area del parco naturale che era stato il territorio di rinsidamento. Però la politica non ha portato avanti queste problematiche qua, con il risultato che gli orsi sono rimasti praticamente confinati in un unico reale, bloccato da una parte delle montagne, da una parte delle infrastrutture e dai corsi d'acqua. E questo alla fine è una scelta politica che qualcuno dovrà andare a giustificare e che oggi non si può semplicemente cercare di risolvere imbracciando doppiette o dicendo che bisogna spostarne qualche centinaio altrove, a parte il fatto che bisogna prima sapere dove li si sposta per poterli spostare. Ma Salvini, oltre che parlare di orsi e di grandi carnivori, ha un po' sorvolato su quello che sarà l'appuntamento clou dell'autunno prossimo, ovvero sia le elezioni provinciali del Trentino e oltre a limitandosi al solito desueto slogan che squadra che vince non si cambia, ma qua bisognerebbe capire anche in che termini una squadra vince, perché se quella che sta cercando di avere la rielezione, quella guidata dal suo soldato di partito Maurizio Fugatti, dovrebbe essere quella vincitore, beh, Dio ci scampi, perché è una squadra che ha raccolto nel corso degli ultimi cinque anni più insuccessi uno più clamoroso dell'altro, sia politici ma anche giudiziari, evidenziando anche una scarsissima spessore dal punto di vista istituzionale nei rapporti tra i vari poteri. Ebbene, da questo punto di vista Salvini ha bellamente fatto scivolare via la cosa, nonostante che lui, da segretario nazionale della Lega, dovrebbe essere direttamente interessato ad avere anche in Trentino un buon risultato, un risultato che rischia di essere decisamente al di sotto delle sue aspettative, perché il partito gli sta franando sotto i piedi e il bello è che fa finta di non accorgersi, con tantissimi militanti, anche di lunga data, che stanno spostandosi su Sergio Divina, altro ex militante della lista, storico fondatore della Lega Trentino, che ha preso la palla al balzo e ha fondato una sua forza politica alternativa, che ponendoci come terzo incomodo, come terzo candidato alternativo, tra uno schieramento di centro-sinistra e uno schieramento di centro-destra guidato appunto dalla squadra che vince, che non si cambia. Anche qua sarebbe bello sapersi cosa effettivamente Salvini spera in cuor suo, perché oltre a nascondersi dietro un dito, a nascondere l'evidenza di una squadra che non è in grado assolutamente di vincere, se non per qualche fortuito caso che non è al momento preventivabile, bisogna capire su che cosa porterà, perché il Trentino, soprattutto in termini di bilancio dell'autonomia speciale, è ormai staccato anni luce da quello che è la situazione dell'Alto Adise. Alto Adise che negli ultimi 10-15 anni è riuscito a correre, a utilizzare la propria autonomia in modo costruttivo, coerente e soprattutto dinamico, portando l'economia locale ai vertici non solamente italiani, ma anche dell'Europa, con un PIL pro capite di cui il presidente uscente e probabilmente riconfermato, Arno Compaccio, va giustamente l'orgoglioso, 49.900 euro pro capite, il valore più elevato in Italia. Ecco, a fronte di 49.900 euro pro capite dell'Alto Adise, il Trentino può vantare un risultato praticamente dimezzato, complice proprio perché non si è curata l'autonomia e il bilancio stesso dell'autonomia trentina chiude quest'anno, 2023, con 4 miliardi e 600 milioni di bilancio, contro i 7,65 miliardi della provincia di Bolzano, 3 miliardi in più a parità di autonomia, a parità di autogoverno, a parità di competenze. Evidentemente il problema sta nel manico e quando il manico è fallato, quando il manico è marcio e quindi si è rotto, i risultati sono quelli che si vedono sotto gli occhi di tutti, con un'autonomia sempre più in difficoltà, con un governo incapace di scegliere e soprattutto di programmare a media e lunga scadenza, avendo solamente come obiettivo l'oggi o forse anche il domani al più. Ebbene, da questo punto di vista, probabilmente alle elezioni del 22 ottobre 2023, gli elettori trentini tra un Salvini che preconizza una squadra che vince e che non si cambia, ma bisogna appunto vedere se sarà in grado di vincere, tra un centro-sinistra che parte bolsa con un candidato bollato di reati contabili e amministrativi da parte della stessa Corte dei Conti, probabilmente il terzo concorrente in gara, l'ex liguista Sergio Devina, probabilmente ha qualche chance di vincere e di fare anche un bel risultato, a favore proprio dell'autonomia trentina, staremo a vedere cosa succederà. Cari amici vicini e lontani, anche questa puntata di Focus Trentino giunge il termine, prima di salutarvi vi ricordo di mettere un like e di condividere il programma con i vostri amici. Intanto, da parte di Stefano Ede, un saluto alla prossima puntata. Grazie a tutti.